Tre giorni di installazione di cartapesta, esibizione dei gruppi mascherati e musica in piazza Angelo Scandaliato. Va in scena da venerdì 13 a domenica 15 settembre il carnevale estivo a Sciacca, con un programma che rispetto alle previsioni è stato ridimensionato così come lo stesso investimento previsto. I tre giorni del carnevale estivo costeranno 15 mila euro, 5 mila dei quali finanziati dalla regione. La manifestazione prevede naturalmente l'esibizione dei gruppi mascherati che hanno partecipato al carnevale 2024 e poi soprattutto l'installazione delle opere artistiche di cartapesta dai primi tre carri classificati in piazza. Quindi percorriamo questa strada che è quella dell'inserimento di queste opere di cartapesta in piazza ed è una strada che potremo percorrere anche in futuro, naturalmente perché potrebbe essere importante avere queste opere a disposizione della città anche in periodi diversi dal carnevale. E poi naturalmente ci sarà tanta musica. La vera novità però è la presentazione dei bozzetti del 2025 che avverrà domenica sera sul palco. C'è stato un programma un po' ridimensionato rispetto a quello che era stato prospettato nei mesi scorsi, ossia la presenza proprio in piazza, Angelo Scandaliato, dei carri allegorici, così come li abbiamo visti nell'edizione invernale, seppure fermi. Perché non è stato possibile? Allora, naturalmente tutto è stato concordato con le prime tre associazioni che si sono classificate lo scorso anno. Abbiamo concordato insieme di fare questo, inizialmente si pensava appunto ai carri, poi si è pensato alle opere artistiche da mettere in piazza, naturalmente il divertimento sarà assicurato. Naturalmente la normativa che riguarda le associazioni è in continua evoluzione, anzi siamo in un punto di novità importante e tutte le associazioni si stanno adeguando a tutte le ultime novità normative che ci sono in seguito. Ci sono queste ragioni quindi di natura tecnico-amministrativa che hanno impedito poi il montaggio dei carri? Sì, sono queste ragioni, ma naturalmente queste ragioni verranno superate a breve, tant'è che tutte le associazioni stanno seguendo un iter burocratico che permetterà a tutti di essere a disposizione per il Carnevale 2025. Scade domani intanto il bando per la presentazione delle istanze di partecipazione al Carnevale di Sciacca del 2025 che si svolgerà il 22-23 febbraio e poi da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo alla Perriera, il centro storico ormai solo un ricordo. Otto i carri allegorici che saranno ammessi al concorso, due in più rispetto allo scorso anno e già alcune associazioni oggi hanno presentato l'istanza. I bozzetti saranno presentati sul palco di Piazza Angelo Scandaliato domenica sera a conclusione del Carnevale estivo. Questo evento è promozionale per il 2025 e naturalmente messo in questo periodo, che è un periodo in cui ancora gli alberghi sono pieni di turisti perché abbiamo comunque l'importante presenza turistica a Sciacca, serve a guardare il 2025. La novità insidita quest'anno è appunto la presentazione dei bozzetti. Solitamente questo si fa pochi mesi prima, poi lo stiamo facendo con ampio anticipo, questo per permettere anche all'associazione di lavorare naturalmente in un tempo più ampio e poter lavorare meglio. Naturalmente questa novità è quella che si aggiunge a quella che c'è stata l'anno scorso relativamente alla presentazione delle classifiche sul palco, quindi andiamo aggiungendo pezzi di novità al Carnevale per fare in modo che il nostro Carnevale possa avere un interesse maggiore a livello nazionale più importante. Si sta definendo la partecipazione dei protagonisti del Carnevale ma ancora non c'è il bando su chi dovrà organizzare questo Carnevale posto che immagino che verrà ancora una volta anche quest'anno affidato ad una società esterna. Naturalmente verrà affidato ad una società esterna perché i tempi in cui il Carnevale veniva organizzato al Comune sono, ahimè, superati. Quindi di conseguenza l'amministrazione sta lavorando, il Sindaco sta lavorando anche su questo e naturalmente avremo una gestione che va oltre l'anno, quindi è importante anche in fase di programmazione fare pensare a questo perché naturalmente il nostro Carnevale ha degli investimenti che possono essere fatti in maniera pluriannale e noi speriamo che il gestore privato che gestirà la festa possa andare in questa direzione perché naturalmente più presente ci sono per la città più bello sarà il nostro Carnevale e più in alto il nome del nostro Carnevale sarà. Quindi il bando sarà per due o tre anni e poi le chiedo quando sarà pubblicato, che tempistica c'è? Ah, su quando ci sta lavorando l'amministrazione, ci sta lavorando il Sindaco, ma che ora non passeranno molte settimane naturalmente sarà un programma o meglio un bando pluriannale, questo per permettere appunto quegli investimenti che è solamente una gestione pluriannale può prevedere.